Oggi faremo il cicerron, pancetta bella carnosa, tagliamo a strisce Ok, adesso tagliamo in questo modo senza arrivare alla pelle, così In questo modo Ok, qua ho dell'acqua bollente, mettiamo un cucchiaino di bicarbonato Del sale E adesso facciamo bollire la nostra pancetta Ok, facciamo cuocere Ok, sono cotti per bene Adesso li tiriamo fuori e li facciamo scolare Li disponiamo su una teglia con della carta Devono essere asciutti asciutti Li facciamo asciugare Una volta asciutti li mettiamo a friggere a fuoco molto basso E mi raccomando mettiamo il coperchio perché scoppietta Una volta dorati per bene, li tiriamo fuori Ed ecco qua Beli croccanti Ho fatto anche un guacamole per accompagnare E adesso assaggiamo Ecco qua Buonissimo 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 Buonissimo